bentornati a lampi di tesla cominciamo da quelli che aspettano oggi dai se aspettate una model 3 o model y per questo trimestre quindi entro fine settembre vi faccio vedere questa foto quasi 9.000 auto pronte per essere imbarcate in arrivo dovrebbero arrivare queste a capodistria il che vuol dire che sono quelle destinate proprio al mercato sud europeo compresa l'italia quindi se state aspettando è possibile che il vin vi arrivi magari tra una settimana o giù di lì o magari un po più la secondo me anche chi aspetta la macchina per il trimestre successivo quindi per dicembre potrebbe avere magari una bella sorpresa soprattutto model y perché perché shanghai ha ripreso la produzione a tutto spiano parliamo di circa 2600 model y al giorno quindi numeri davvero incredibili e quindi se c'è un surplus di produzione ben venga che qualcuno ritiri l'auto prima rimaniamo in cina perché tesla sta facendo un'offerta estremamente interessante ai già proprietari per fargli cambiare auto e comprarne una nuova ve la faccio vedere tutto chiaro no traduco io ovviamente io parlo anche il cinese in modo fluente quindi ve la traduco senza problemi allora intanto tesla sta offrendo questi tre incentivi particolari per i clienti che entro il 30 settembre acquistano un'auto nuova fanno un upgrade e che cosa sta offrendo in particolare sta offrendo l' fsd a metà prezzo sulla nuova auto quindi anziché pagarlo in europa sarebbe 7500 euro lo pagano la metà il secondo incentivo è avere 15.000 chilometri di supercharger gratuiti quindi le ricariche gratuite proprio com'era con i vecchi programmi referra insomma 15.000 chilometri non è poco e invece il terzo incentivo è il wall connector con installazione inclusa quindi parliamo comunque di un migliaio di euro di incentivo mica male perché tesla sta facendo questa operazione allora non perché tesla abbia problemi di domanda perché anche in cina va alla grande anzi i tempi di attesa anche in cina sono abbastanza alti e allora perché tesla bisogno di fare o comunque ha scelto bisogno a parola non corretta ha scelto di fare questa operazione vi do la mia opinione personale secondo me proprio a causa dell'eccesso di domanda e dei tempi lunghi di consegna tesla vuole accaparrarsi un po di usati da mettere sul mercato in pronta consegna quindi se magari un cliente ha una model 3 che vuole cambiare con una model y con questo incentivo è più magari lo fa più volentieri in modo tale da dare a tesla un'auto da rivendere a un prezzo leggermente inferiore e continuare a far girare il mercato attualmente questo problema in europa non c'è perché se voi andate a vedere il sito tesla le auto usate soprattutto le model 3 ci sono una marea ovviamente i prezzi sono quelli che sono perché il mercato comunque è così però ecco in europa non vedo questa problematica ecco probabilmente in cina invece c'è a carenza anche di usato comunque manovra interessante perché alla fine questo giochino a tesla costa zero perché il fsd è un software il che non vuol dire che non abbia un costo però comunque tra venderlo a 7500 parlo di prezzi europei e magari non venderlo proprio meglio venderlo alla metà del prezzo stessa cosa per quanto riguarda i supercharger gratuiti non è detto che il cliente poi li usi effettivamente però comunque rimane un incentivo e vabbè e poi il wall connector con l'installazione però ecco a fronte dell'acquisto di un'auto nuova alla fine l'unica cosa che ci mette tesla è il wall connector insomma mi sembra comunque un'ottima idea complimenti a tesla per questa iniziativa di marketing abbiamo parlato qualche giorno fa dell'aggiornamento 2022.24 che va a cambiare la posizione del della freccia quando accendiamo la freccia il lo schermo che ci fa vedere l'immagine che ci fa vedere se abbiamo qualcuno di fianco ecco l'angolo cieco che a oggi è posizionato in basso a destra e non è proprio comodissimo abbiamo qualche dettaglio in più perché l'aggiornamento è in fase di distribuzione quindi potrebbe arrivarvi a giorni e quindi date un occhio sempre alla macchina se ha degli aggiornamenti anche se siete in ferie potete farlo dall'app io lo faccio dall'app da qui e faccio gli aggiornamenti in italia momento nerd comunque abbiamo qualche dettaglio in più sembra che le posizioni che si possono scegliere siano tre quindi io lasciarlo in basso dove adesso spostarlo in alto quindi appena sotto la velocità oppure spostarlo leggermente più al centro sempre in alto dove si trova il riquadrino di navigazione ecco secondo me forse l'opzione in alto a sinistra è la migliore io non lo uso di base non l'ho usato però perché usavo le fsd non mi serviva però secondo me è la posizione migliore però comunque buono che che ci sia ecco colgo l'occasione perché tra l'altro con questo aggiornamento viene spostato anche la posizione delle frecce proprio per consentire lo spostamento dell'immagine e colgo l'occasione per fare una piccola riflessione quando noi vediamo l'interno di una tesla che è molto basilare molto basico senza pulsanti e molti si lamentano del fatto che comunque qualche pulsante fisico serva ora non entro nel merito queste sono opinioni ognuno ha su opinione però il concetto di base esattamente come per uno smartphone e che se io non metto pulsanti fisici ho la completa libertà di cambiare tutto quello che voglio di migliorarlo di renderlo più fruibile esattamente come ha fatto tesla negli anni migliorando il software non entro nel merito dell'ultima versione io ho espresso le mie le mie opinioni sono abbastanza favorevole però so che a molti non piace però a prescindere da questo questa libertà proprio di non avere i tasti fisici aggiunge proprio un valore secondo me incredibile all'oggetto fisico perché nel momento in cui arriva un aggiornamento anche la macchina magari di tre anni riceve l'aggiornamento e diventa una macchina nuova mi ricollego allo shareholder meeting di ieri perché lo stock split 3 a 1 è stato approvato il che significa questa piccola parentesi investitori il che significa che se avete un azione tesla non si sa ancora la data di split però se avete un azione tesla che vale 900 dollari dopo lo stock split avrete tre azioni che varranno 300 dollari luna quindi il valore totale non cambia ma cambia il numero di azioni che avete questo che cosa comporta che con un prezzo dell'azione particolarmente alto come attualmente tesla si va ad abbassare il prezzo unitario e quindi in teoria ad aumentare la platea di piccoli investitori che possono accedere all'investimento ecco questo non cambia niente però proprio a livello finanziario nella compagnia detto questo datemi due minuti allora intanto vi ringrazio tantissimo per il supporto che sia con una visualizzazione con un pollicione con i commenti che mi piacciono sempre un sacco rispondo assolutamente a tutti molto volentieri con un super grazie che apprezzo davvero davvero tantissimo o con una donazione su paypal al link che c'è in descrizione in particolare grazie mille a marco che ieri ha voluto dare atto del lavoro che faccio chiamiamolo così riportandovi le notizie e facendo una donazione particolarmente consistente lo ringrazio tantissimo spero che i contenuti ti piacciono ma immagino di sì se mi hai gentilmente dato questa opportunità e quindi ci tengo a dire che tutto quello che entra nel canale viene reinvestito nel canale ovviamente io faccio un altro lavoro non ho bisogno dei soldi di youtube ecco diciamo così e quindi colgo l'occasione perché il prossimo fine settimana quindi l'undici che giovedì devo andare venerdì in realtà il 12 devo andare a washington per delle questioni personali e mi fermerò fino a sabato e non vado col minivan anziché noleggiare una qualsiasi auto ho deciso di sfruttare l'occasione di spendere qualcosina in più ma grazie a voi e di noleggiare una model y long range la ritirerò giovedì pomeriggio quindi potrò fare già un primo video di impressioni poi farò il viaggio sono circa 320 chilometri niente di che la userò un po quindi proverò l'autopilot non fsd vediamo come va la macchina sono con la famiglia quindi la comodità come va come non va e poi tornerò a casa sabato ma la macchina riconsegnerò domenica pomeriggio quindi avrò un'altra giornata per provarla e darvi altre impressioni questo tutto grazie a voi che credete nel canale e quindi a me piace portare dei contenuti nuovi che potrebbero essere interessanti interessanti perché poi tornando in italia avrò sicuramente la possibilità di provare la model y made in shanghai e magari anche quella made in berlino e quindi potrò magari apprezzare le differenze perché questa ovviamente è stata costruita a fremont e che dire grazie davvero tantissimo se avete domande e curiosità riguardo alla model y scrivetemele nei commenti e io cercherò di soddisfare queste curiosità il prossimo fine settimana grazie grazie davvero tanto prima di lasciarvi ieri qualcuno nei commenti non credeva che ilon avesse come avete menzionato i lampi di tesla vi faccio vedere questa clip avete visto questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre alla prossima ciao ciao